Non ha escluso niente, anzi ha dato ai sindaci una settimana di tempo per dare delle risposte certe, altrimenti in caso di emergenza scatterà il piano B. Capannone già attrezzato a Montemurlo, dove nei prossimi giorni ci saranno i sopralluoghi di Asle e Vigili del Fuoco per verificare l'esistenza dei requisiti minimi per tale uso, o Tendopoli. Prato ha una situazione del tutto peculiare, ha pochi sindaci, non ha immobili pubblici, non ha alberghi, perlomeno i nostri alberghi di Prato non hanno mai aderito all'accoglienza propria. Quindi capite che per noi è stata una vera e propria emergenza da gestire tra venerdì e sabato sera. L'ipotesi Tendopoli continua a ricevere il secco nodo del Comune di Prato. Il sindaco Matteo Biffoni, in qualità di Delegato Nazionale Anci all'Immigrazione, responsabile Anci Toscana, domani parteciperà al Vertice per riequilibrare le quote di ogni provincia. Si tenga presente che in Toscana ci sono ancora 70 comuni che non accolgono. Se lo facessero sarebbero recuperati ben 2.500 posti. Prato, con i 22 nuovi arrivi di ieri, accoglie complessivamente 539 migranti. Al momento le strutture esistenti possono inserire al massimo un'altra decina di persone. Oltre, in mancanza di strutture libere, il prefetto sarà costretto a far scattare il piano B. Ci stiamo già organizzando perché nel corso delle prossime settimane ci siano risposte, come abbiamo sempre dato, piccoli nuclei diffusi sul territorio cercando di non creare mai tensioni sui territori che accolgono. Certo, la materia è complicata, scivolosa, sappiamo poco popolare, sarebbe meglio non doversene occupare, però queste persone arrivano.